Ciao amici, siamo arrivati a fare anche noi un video su Horizon perché nessuno l'aveva ancora fatto Ehi guarda, con quel telescopio puoi servare casa tua Aspetta, mi serve un personaggio molto a me manca Mi serve un support, oh ok, prendiamo Symmetra Quante botte Beh se non hai le mani No ma non è un support, dovrebbe stare in quelli da difesa, caspio Ecco, come si autocensura Paco Ehi non potevo curarti, mi spiace Si ma Orisa, metta lo scudo, la prego Paco non so se hai notato, è un livello 16 Arrivo forse l'anno prossimo Perché questo gioco è veloce Ma è vero che questo non è Androxus, devo mirare bene Paco non curi Sto appena curato Hai zitto Sto vai a far Eeeh vabbè Paco 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 Che palle quel Junkrat No, è che il nano di merda Mette l'armatura e poi ce la prende Lui, non è che me la prenda, io no Qua che muoio ancora E levati dal cazzo tu Porca E muoio Ammira dietro, capolo Ma, porca Il giorno imparerò a mirare bene anche con me Crick Eccola Si mette in attacco Si, è proprio simmetra Si metra, è guido maker Ma trappigiao di merda Ma no Ma vada via il culo Quella cazzo di metastasi di Mei No Mei, no, no, no Vai via Fottiti No Mei, Mei, no No Eeeh, stavo facendo Va che vado a fare i one on one con Zenia Wow Tu si che sei uno con le palle Ho notato Badum Fottiti Vi so che ti piacciono gli esplosivi Ciao Viva 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 schillatissimo ma la play of the game la voglio io aspetta che gli devo dire una cosa si 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 che fa schifo veramente guarda eh che cagata e poi arriva Junkrat e ragazzi direi che anche per oggi basta perché potreste sentire un oceano provenire dal mio pc in questo momento ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao